Ragazzi prima di cominciare questo video Volevamo dirvi che dal 9 al 12 Saremo a Romics E saremo allo stand Di Miragodo nel padiglione 9 Tutto qua Porco il bove! Ci saremo tutti i giorni A tutte le ore e potete anche acquistare Le nostre magliette dei granas Vabbè comunque si ci troverete là Mi raccomando tante foto al tuo tempo e tanti soldi, ciao Saremo a Romics Comincia! Oh no, sto giocando solo, è vero Ma che era? E se c'è inizio, no che fai? Barbier E' uno che... E' uno che fai essere da Barbier Da Siviglia viene No, da Siviglia No, guardi, non ci sto pensare che sto giocando solo Oh, 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 oh Ma che è questo? Ma che è questo? Oh, no, no, vado Oh, mio Dio Come si chiama? Televisto Ma che parevi la calcola? Non si sa chi è Porco il 2 Ma che cazzo di cosa ha fatto? Vabbè, vabbè, vabbè andiamo avanti No, voglio vedere chi cazzo è Eh, ma se rimani avanti lo vedi? mi sono non è male non semina gente con chiari mi dispiace la vede che devo fa no che te lo vede no che te lo vede te te lo vede oddio che sei per un gran valore io ti dico più forti mi dispiace cioè se cazzi tu e si fa piano come diciamo questo valeraglus 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 oddio mi la vede a usco villalva aperte caso il riuso rius per il riuso marco riuso via chiede arriva lui un palco il palco il bambino tutto forte attuali per l'ultima volta fatto ma dal suo orecchio sopravvoli la madre del pello seggio scroccio proprio pittata visi gioca uomo mi gioca bucce della voce c'è pericore ma che non dava che cazzo stai a dir ma che cazzo stai a dirlo anche un pezzo del meo baffanculo morco di una cosa che stava male e riuscire ancora c'è un pochettino come lo stava pregando così portalo come se ne va ho detto c'è il brutto di un giro che cazzo fanno? ma che cazzo se cazzo stava a fare di pensare mio come giocano lei è esser andritta tirata infatti bucati di là ho visto prova un progetto quanto fai una volta che fa eravamo acqua di armi ma sostitui acqua no bello bello LUMOOOOOO HO 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 CHURG come cazzo è smulta ragazzi è servito a qualcosa incredibile magnifico guarda qua che cross teso perfetto PAM passa dietro la difesa vai Davo che... che guaccia come ti fai fa un camera guaccia eh devi mettere dentro no che schifo no che schifo è male te pare che c'è spunto hai detto te ma che ti tieni te pare che ti fai meglio se ti mi amano ti fai male che cazzo stava che cazzo stava dai vallo 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 ha vallo 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 tap vi vallo tempi lino scegliamo marzo se no rai santo le dalle mi dico tè dal tiro non va non ho avuto con te che vinciglia si è rilevo scuola del merlo siamo tra non ci posso roma ma stavate trasparente e non è stato un'altra volta barbieri barbieri verde palla ora la vuole di mettere in mezzo ma va fuori e ancora è una serie a parte di fai con schiena tutto di nuovo rischi vuol dire così che vuoi ancora ora il che dire vai vai come dire gole come dire gole ti chiamo le tiri le gole rossi per te per le valore e doveva dire quello al lato non so come si chiama però quello al lato per me ancora cazzo di cazzo di un cazzo nostra nostra è nostra bomber devo fare delle statistiche dopo è nostra bomber è nostra bomber che cazzo sta da fare ragazzi questi stanno vincendo che sta da fare guarda ma non mi vuoi che si chiama dai ma vai scrivi 2 e 1 guardate le statistiche guarda ragazzi 5 di riporto e io 2 mazza scusa scusa fll varela questa ti chiama come un giocatore vabbè raga cioè scandalo scandalo lo scritto ha regnato anche oggi certo certo come no e niente io ho perso finalmente l'ho fatta a perdere una partiglia diciamo dai porco tu ha trovato sempre i fenomeni santo dio è una volta che trovi l'alba e mi piaciò questo video ci vediamo ci vediamo al prossimo video bella bella ciao 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 ciao